Petagnone, ale, 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 petagnone, ale, 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 buongiorno, 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 benvenuti in questo mio nuovo video post partita, Napoli 6, 6, 6, Fiorentina 0, è un altro punto a favore, questa giornata, non dico perfetta, ma un Napoli che fa 6 gol e ne subisce 0, ma soprattutto fa 6 gol su 7 tiri, 7 tiri, questo significa che in Napoli è stato cinico, cioè ci siamo sempre incazzati con, abbiamo creato 30 palle goal, tipo con lo Spezia, 30 palle goal è un gol, ma 7 tiri e 6 gol, minchia, personalmente, mentalmente sono migliorati, però una rondina non fa primavera, questo è ovvio, questo è naturalmente ovvio, io sono curioso di sapere cosa si sono detti Gattuso e i ragazzi nel pranzo che hanno fatto recentemente e questi incontri servono per unificare la squadra, per chiarirsi, per parlare, per scherzare, per distendere un po' i nervi, alcune volte questi incontri, magari una volta al mese, una volta a due mesi, possono servire, Gattuso poi ha offerto il pranzo, lui ha ammesso in primis che molte volte sbaglia il dialogo, ha chiesto scusa, ma lui è fatto così, Gattuso è sempre fatto così, quando dice le cose in faccia, quando si incazza, perché vede il momento, poi ha freddo, è tutta un'altra cosa, ma comunque, bravo Gattuso che è riuscito a riunificare, si spera il gruppo, ma torna a ripetere, non a rondine, non fa primavera, e noi, nonostante avessimo vinto 6-0, io non so, chi mi conosce lo sa, chi mi conosce lo sa, è inutile che molti mi scrivono, molti sicuramente mi scrivono, eh ma non esulti mai, eh ma non difi mai, eh ma così, eh ma colà, abbiamo perso con la spezia, io vedevo delle cose positive, proprio minime, 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 eh ma come mi ha giocato una chiave, così eccola, chi mi conosce da tanti anni lo sa, che seppure dovessimo vincere 10-0, noi oggi abbiamo vinto 6-0, ma le critiche, anche se minime, anche se non in primo piano, ci stanno, per esempio, sull'1-0 nostro, io mi aspettavo un Napoli più, non dico arrembante, un Napoli all'arrembagine attacco, assolutamente no, però un Napoli un po' più di personalità, un Napoli più attento, un Napoli più accorto, difensivamente, invece, ma io sull'1-0, e dal quinto al ventesimo, venticinquesimo, quando abbiamo segnato il 2-0, che poi il 2-0 ha distrutto psicologicamente la Fiorentina, il Napoli non ci ha capito un cazzo, la Fiorentina ha alzato un minimo il baricentro, proprio una Fiorentina offensiva, non ci abbiamo capito un cazzo, questo perché, secondo me, manca l'equilibrio tra difesa e centrocampo, il centrocampo ha aiutato pochissimo, la difesa, infatti Demme oggi, a via del gol, non l'ho visto proprio in maniera incredibile, Baccaiocco per me è stato il migliore difensivamente, tanto per, ma bisogna migliorare, cioè se la Fiorentina avesse pareggiato, e poteva pareggiare, cioè, miracolo di Ospina, traversa di Biraghi, o meglio su, auto, traversa di Demme, Biraghi di poco fuori, perché? Che poi Biraghi ha fatto quello che cazzo voleva, perché? Perché c'era Isai, Isai, la partita, o finisce 1-0, o 2-0, o 3-0, o 6-0, o 10-0, esce sempre come peggiore in campo, è una cosa impossibile, che poi c'è stata un'occasione sulla parata di Ospina, che Isai la passa a Demme, non vede magicamente Ribéry, non vede Ribéry che era pronto come un falco a pressare Demme, che si sceme, invece da l'avanti e dai dietro, si sceme, vabbè, si spera che prossimamente siano più equilibrati e più attenti, soprattutto nel possesso palla, il tetronista, Napoli ha un'ottima percentuale di possesso palla, ma che c'entra, il possesso palla non si valuta con i tiki-toki dagli tiki della difesa, non va valutato così il possesso palla, personalmente, ma togliendo la parte critica, in attacco siamo stati cinici, voi non siamo stati cinici, no cimici, 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 c-ci-ci-ci-i-n-i-ci-i-ci-ci-i-ci-ci-ci-no-cimici, né? Sette tiri, sei gol, insigne, bello, quando c'è da criticare lo critico, non me lo fotto, non me lo fotto se è napolitano, però quando c'è da, non dico da elogiarlo, ma da fargli complimenti glieli faccio tranquillamente, lo zalla ancora in gol, Pettagnone, ma io Pettagnone continuate a criticare Pettagnone, ha fatto due assist, ha fatto un ottimo movimento, si è mosso in tutto il fronte d'attacco, è andato a prendersi la palla addirittura nella nostra tre quarti e continuato a criticarlo, continuato a dire non è da Napoli, continuato a dire è un bulldozer, per quello che è stato preso, ok, vendi milioni, quello che cavolo volete voi, è venuto come terza scelta e i numeri, cioè vi stanno sbugiardando i numeri, ok, i numeri, mi è piaciuto l'ingresso di Cioffi, ottimo il rientro di Insigne, qualche spezzone, Zielischi sulla posizione di tre quarti, niente da dire, il Napoli quando attacca ha attaccato in cinque, ovvero Coppetagna, i tre trequartisti e i due mediani, eh, e qua bisogna leggermente migliorare, vabbè. Allora, ragazzi, noi ci vediamo non so quando, comunque questa partita deve servire per il morale in vista di mercoledì, che è stata tutta un'altra partita, quindi attenzione, la Fiorentina difensivamente ha concesso un botto, perché dopo il 2-0, 3-0 l'abbiamo distrutta psicologicamente, la Juve psicologicamente, pur se dovesse andare in svantaggi 2-0, l'attenzione deve sempre essere alta, ma non sono io o chiunque altro di noi a dire queste frasi, e non è un nostro augurio, loro lo sanno che partita devono fare, come la devono interpretare e si vedrà. La Fiorentina personalmente è una bella squadra, solo che l'allenatore non lo vedo molto, molto grande personalmente. Ah, io per la vittoria godo principalmente per Amarabat, ma godo proprio a spruzzo, proprio contro Amarabat, lui non è venuto a Napoli perché si è fatto influenzare dai giornali, Napoli così, Napoli con la... E va a taffia e va a fa' un culo, per seppette e va a fa' un culo, va. E' uno scoglio che mi dovevo togliere dallo stomaco. Mi scuso con gli iscritti e gli youtuberi giuventini, Fiorentini, ma era uno scoglio incredibile che mi dovevo togliere. Un saluto a tutti, noi ci vediamo più tardi forse con la live della Weekend League, che fa una merda questa domenica, vabbè. Un saluto a tutti, forse andiamo sempre e... Ciao io.